Eccoci tornati, siamo ancora qui con Oriana Rizzuto, quindi rinnoviamo il nostro grazie per essere qui con noi E ti voglio chiedere questo Oriana, adesso abbiamo messo un sacco di curiosità, soprattutto i telespettatori che ci guardano dalla regione Lazio e da Roma Dove possono trovare, a parte quello della metro che abbiamo detto, le altre opere d'arte? Allora, bella domanda, mi fa piacere rispondere perché comunque vuole essere un invito a tutti i cittadini, ovviamente non solo della città ma di tutta il Lazio, ad andarle a scoprire In primo luogo mi piace sottolineare la nascita di questo piccolo museo a cielo aperto, nel senso che comunque ce ne sono tante già in città Però sono stati creati questi piccoli territori, luoghi in cui ci sono diverse opere nello stesso quartiere Allora, in primis Sette Camini, vi dicevo, questo quartiere alla periferia est della capitale, dopo via Tiburtina, proprio alla fine Ed è una piccola borgata, diciamo, nata anche molto caratteristica a livello storico, insomma, se qualcuno si ricorda anche le case popolari e la struttura dei lotti di Garbatella Sono state fatte con quella concezione, per fortuna Sette Camini è una zona industriale, per chi non lo sapesse Esatto, però la borgata di Sette Camini è nata molto prima, ovviamente, della zona industriale E dei lavori che sono ancora in corso E dei lavori interminabili, diciamo, che sono ancora in corso Quindi dieci opere sono lì, che abbiamo fatto in questi anni E le prime sono state, le abbiamo realizzate durante proprio il lockdown Solo, Diamond, insomma, i ragazzi abbiamo lavorato in un clima ovviamente surreale E mi raccontavi, fuori onda, che da ottobre ad oggi Esatto Di sei mesi ne avete fatte? Ne abbiamo fatte altre dieci E sono tantissime E sono tantissime Ho altre sei a Sette Camini Poi, appunto, c'è stata l'opera a Ponte Mammolo E un'altra opera in una scuola di San Paolo A Marconi, zona Marconi-San Paolo È euro, quindi? È euro, sì, sì, sì Insieme ad altri artisti internazionali Perché loro sono stati gli NSN 997 Che vivono a Madrid, anche se sono di Napoli Quindi, insomma, è una... Ci sono altre città all'estero Che sono forti per quanto riguarda lo street artist E che possono essere dei veri e propri musei a cielo aperto Beh, allora, Madrid e Barcellona La Spagna, diciamo, che negli ultimi anni È stata davvero, insomma, una grande... Un volano, no? Molti artisti che abbiamo invitato noi negli anni Sono state, diciamo, selezionate Per essere, diciamo, città Modello per ciò che riguarda la street art Adesso, con grande piacere, sto vedendo Che ci sono E viene soprattutto dalle donne Tantissime street artist E tantissimi street art Street artist Che usano, per fortuna, la street art Per affrancare i diritti umani I diritti civili Quindi, negli ultimi anni Stiamo anche vedendo, no? Cioè, città molto particolari Insomma, in Iraq Anche nonostante le... La guerra In Iran In Turchia Insomma, ma anche in Cina Bisogna lanciare un messaggio E lo si fa attraverso... Esatto La street art Però la vostra è una street art Legale e legalizzata Perché vediamo nei nostri paesi Nelle nostre città Tanta street art Che però è un reato Esatto Abusiva Sì, sì, sì Allora La street art è nata Perché era un movimento di protesta No? Cioè, sappiamo tutti Che ovviamente è nata Nei suborghi Soprattutto in America No? Negli anni Negli anni 60 Quando parallelamente Ma anche prima Quando parallelamente Nascevano le... C'erano le factory Di Andy Warl No? Di Basquiat Basquiat stesso era a metà No? Basquiat Come che Tering No? Sono degli artisti Che sono nati Attraverso L'illegalità Della street art Perché si aveva l'esigenza Di dare Un messaggio Di lasciare Un tag No? Cioè, lasciare qualcosa Di se stessi Quindi i primi erano Le metropolitane Le stazioni I luoghi di soborghi I soborghi O soprattutto appunto Le fasce diciamo Molto Dell'America Nera No? Di quegli anni Insomma È stato un movimento Di protesta Che piano piano Si è affrancato Che non solo Si è legato anche alla musica Al rap Insomma Tante belle cose Esatto Oriana Grazie per essere stata con noi Per averci raccontato Questo meraviglioso progetto Che si è concluso Street for Street art for rights Grazie Torna a trovarci Quando vuoi Grazie Grazie Abbiamo un'opera Ci tengo a precisare Ce n'è una In itinere Stiamo per concludere È a Corviale Ed è semplicemente L'opera più grande Della nostra città Quindi Allora appena finisce Con un artista olandese JDL È una giovanissima Appena finisce Ve la vengo a raccontare Promesso Ci viene a portare anche lei Bene Sì Ok Certo Promesso Grazie Grazie a voi Allora noi andiamo a vedere adesso Non l'abbiamo fatto in apertura No Non è che l'abbiamo persa come abitudine Di chi è il compleanno Di chi è il compleanno Di spegne le candeline Un ex calciatore Moreno Torricelli Auguri Tanti auguri a Moreno Torricelli Nato a Erba In provincia di Como È stato un calciatore Dopo il ritiro Dall'attività agonistica È diventato allenatore Ha giocato come terzino Soprattutto nella Juventus Dal 1992 Al 1998 Con 153 presenze In Serie A E una rete E nella Fiorentina Dal 1998 Al 2002 Con 99 presenze E due reti Con i bianconeri Ha vinto anche tre scudetti E una Champions League In nazionale Dal 1996 Al 1999 Ha totalizzato 10 presenze Raffaele Ciccarelli Buonasera Buonasera Ciao Raffaele Buonasera Buonasera a tutti Raffaele Allora noi ci siamo visti Venerdì abbiamo detto La Juventus giocherà Con l'Atalanta E così Avevamo un'idea Della classifica Una visione Ben precisa C'è stato un È cambiato qualcosa Un fatto Un fattaccio Se così lo vogliamo chiamare Perché per il caso Plus Valenze La Juventus Ha perso 15 punti In classifica Raffaele Ma prima di analizzare La situazione Ti faccio vedere Cosa Ne pensano a Torino I tifosi Della Juve Guarda qui Sono giusti questi 15 punti in meno Eh non so Per niente giusti Perché Perché la Juve non se la merita Non solo la Juve Direi che bisognerebbe aspettare L'esito della magistratura Che avrà fatto le sue indagini Per capire se È giusto Oppure no Se è giusto È giusto che paghi Ma guarda È un po' complicato È già la seconda volta Che succede però Se è vero Quello che dicono I giudici Insomma Che hanno accertato Che hanno Usufruito Benefici Visto che hanno fatto Le Plus Valenze In questi anni Non solo quest'anno Credo che sia giusto Magari 15 punti Un po' esagerato Secondo me è giusto Come mai? Beh Le irregolarità Sembra che ci siano state È più che giusto Come mai? Eh perché la Juve Ha sempre fatto così E il lupo perde il pelo Ma non il vizio E' contento? Ebbè Ebbè sono interista Eh no Però scusi È giusto che soltanto La Juve venga punita? Eh ma era un sistema Non so se ha sentito Lì delle interviste Eh Ma grazie Senti L'Inter Oltre la Juve C'è anche l'Inter Che doveva essere punita Però Purtroppo in Italia Ce l'hanno sempre Solamente con la Juve Ma Sono state punite anche le squadre Anche Milan A suo tempo Un po' di meno L'Inter Che voglio dire Lo scudetto tolto Non devono darlo certo all'Inter All'epoca Quando è stato Però Se fosse così Sarebbe una grande giustizia Ma io ho parlato Di giustizia giusta Non di giustizia parziale Ma che difesa è? Se tutti rubano Un beccato solo me Anche Matteo Messina Adenaro Avrebbe dovuto dire Prendete me Ci sono altri Lattetanti Non è una difesa Mi dispiace No Questo no Questo no Ci sono anche altre squadre Che sono Nelle stesse condizioni 10 punti sono tanti In questo campionato Certo che sono tanti C'è la possibilità Di farci ancora? Secondo me sì Più di farcela Direi di vincere La finale del Palè Solo la finale del Palè Possiamo vincere E basta Raffaele A te i commenti Eh Allora Io Innanzitutto Mi allaccio Al fatto che Tutto quello Che possiamo dire ora Tutto quello Che è stato detto È un arrampicarsi Un pochino Sugli specchi Perché non conosciamo Il dispositivo Del giudice Cioè le motivazioni E quindi Non sappiamo In questo momento Perché solo la Juventus Perché 15 punti Beh un tifoso ha detto Perché era un sistema Eh ma il sistema Prevede più di uno però Eh Però mi sembra Che sia stata punita Solo la Juventus Eh Raffaele Forse perché è quella più evidente No? Anche per il caso Degli stipendi No? Dopo per il lockdown La crisi La famosa carta Di Cristiano Ronaldo Magari per quelle Ho capito Non si punisce Solo la più evidente Si puniscono tutte Quelle che hanno sbagliato Se ha sbagliato La Juventus Viene punita Ma se vengono sbagliate Anche le altre Se hanno sbagliato Anche le altre Raffaele la domanda è semplice Campionato falsato? No Campionato falsato Non mi sento di dirlo Perché il Napoli Adesso è sicuramente La squadra più forte Lo ha dimostrato Per tutti i giorni E' andata Ma non solo in Italia Ha dimostrato nel mondo Cioè in Europa Giocando anche in Europa Che è la più forte In questo momento qua E sicuramente Sarebbe fare un torto All'oro Dicendo che Sarebbe un campionato Falsato Introdutto Avevano già 10 punti di vantaggio Sulla Juventus E hanno 9 punti sulle seconde Quindi Falsato no Però certamente Almeno Per quando riguarda Il Verge Poi per quando riguarda Le posizioni di rincalzo Ebbè La Juventus E' la seconda In questo momento qua Punto Raffaele Allora Il nuovo presidente Della Juventus È Ferrero L'abbiamo visto Anche settimana scorsa Nella conferenza stampa Di presentazione Ha parlato Di futuro Quindi andiamo a vedere Cosa intende Per il futuro Qualche ore prima Della penalizzazione Esatto Andiamo a vedere Qual è il futuro Della Juventus Secondo Ferrero Un primo pensiero Va Da presidente Della Juventus A quelli che sono I tifosi Di questa squadra Tifosi che Sono sempre stati Per questa squadra La sua forza E Il suo cuore In assemblea Ma anche Ultimamente Ho avuto modo Di incontrare Parlare Con qualcuno Di loro Sentire quelle Che erano Le loro confidenze E li ho trovati Smarriti Li ho trovati Dubbiosi Li ho trovati Timorosi Li ho trovati No? Così Preoccupati Del futuro Di questa Di questa Nostra società Di questa squadra E qui Proprio per i tifosi Io voglio essere Molto chiaro Cioè Quando ho assunto Questo impegno Di diventare Presidente Della Juventus L'ho assunto Con L'idea Di dare il massimo Del mio impegno Per questa squadra Per la Juventus Assieme Al CdA Che è stato oggi Eletto assieme a me E assieme Al nuovo Ammino Istruttore Delegato Lavoreremo Per costruire Un futuro Della Juventus Che sia Pari All'altezza Di quello Che è stato Il suo passato Un passato Glorioso Un passato Di 125 anni Un passato Che ha fatto Di questa società Una gloria Del mondo sportivo E soprattutto La più forte Società Di calcio Italiana E quando parlo Di Juventus Parlo Di tutta la Juventus La Juventus Che lavora Sul campo E la Juventus Che lavora Fuori dal campo Quindi tutta la società E tutti quelli Che ci lavorano Dentro Come sapete Nei prossime settimane Nei prossimi mesi Ci aspettano Delle sfide Delle sfide E Per le quali Noi Come consiglio Di amministrazione Riteniamo Di avere L'esperienza La competenza La determinazione Per Difendere La Juventus Per difendere La nostra squadra In tutte le sedi Competenti Quando parlo Di tutte le sedi Competenti Parlo evidentemente Della sede penale Della sede sportiva E della E della E della Sede civile Lo faremo Con determinazione Lo faremo Con rigore Lo faremo Anche con Però Pacatezza E senza Nessuna forma Di Arroganza Abbiamo Sempre rispettato Rispettiamo E sempre Rispetteremo Tutti coloro Che saranno Chiamati A giudicarci Ma quello Che vogliamo E uguale Rispetto Per noi Per la società E per la nostra squadra Per poter Discutere Con serietà Rigore Nelle sedi Competenti Quelle che sono state Sostanzialmente Le motivazioni Del nostro Agire Queste le sue parole Raffaele Ma cambierà Qualcosa? Come tu dici Come penalizzazioni Come Sì Sì Futuro In generale Guarda La cosa Certa È che Elkan Perché John Elkan Poi È il Nume Tutelare Di tutta La situazione Perché Lui È il presidente Di Exor Che è la Cassaforto Un pochino Di Di casa Agnelli E di cui Fa parte Anche La Juventus Ha voluto Dimesso Agnelli Tutto il Consiglio Direttivo Presidente Ha voluto Questo Consiglio Di Amministrazione Composto Da Tecnici Non a Caso Preventivando E Presumendo Che ci sarebbe Stato da Battagliare In sede Legale Quindi Questi Sono Fiordi Professionisti Come Avvocati Commercialisti E quant'altro Cambierà Qualche Cosa Non lo so Sicuramente Ci saranno I ricorsi A tutti I possibili Gradi Di giudizio Perché Del resto Ferrero Lo ha Penso Ribadito Tra le righe E si combatterà Da questo Punto di vista A tutti I livelli Se questo Poi porterà A Un ridimensionamento Un ritocco Un aumento Della penalizzazione Questo Non lo posso Sapere Però Sicuramente Qualche cosa Cambierà Caro Raffaele Ha parlato Anche Il nuovo AD Scanavino Sempre Per quanto riguarda Il futuro Della Juve Per dovizia di cronaca Ve lo facciamo vedere Da parte mia Chiaramente Garantirò Il massimo Impegno Per la Juventus E voglio Mettere A disposizione Tutta l'esperienza Che ho maturato Alla guida Anche di altre Società E in altri Settori In questi Due mesi Di esperienza Da direttore generale Che sono stati Molto intensi Per questo Ringrazio anche I colleghi Come ho fatto Peraltro ieri Un primo incontro Che abbiamo fatto Per la disponibilità Tra l'altro Era un periodo Natalizio Quindi non esattamente Adatto A questi ritmi A questi ritmi Devo dire Ho trovato appunto In questi mesi Delle persone Molto motivate Molto capaci E che lavorano Con grande passione Questo Insieme Ad una serie Di progetti Già avviati Per il futuro prossimo Ma anche Con una prospettiva Più lunga Quando parlo di persone Parlo di tutte le persone Della società Quelle più note A tutti quanti voi Al grande pubblico Da Allegri A Cherubini Da Braghina A Montemurro Ma sicuramente Anche tutti gli altri Che lavorano Nella società Diciamo Nelle attività più classiche Dell'azienda Quindi marketing Commerciale Amministrazione Quindi Con queste persone E con progetti Innovativi In particolare Voglio citare Per l'area sportiva La Next Gen Che ha citato Anche Andrea Poco fa Che effettivamente Si sta rivelando Un progetto Straordinario E molto strategico Che ha saputo Già Far esplodere Diversi talenti Che sono Peraltro Stabilmente In prima squadra Già da quest'anno Ma da quello Che mi dicono Insomma E che si vede In prospettiva Ce ne sono molti In tutta la filiera Delle giovanili Pronti A sbocciare Progetti Invece fuori Dall'ambito sportivo Ce ne sono Come dicevo Tantissimi In particolare L'obiettivo principale Su cui ci concentreremo È andare ad aumentare Ad allargare Decisamente Il pubblico Degli affezionati Alla Juventus Quindi Andare Ad aggiungere A quello Che è il nostro Enorme Pubblico Classico Principalmente In Italia A targhe giovani E internazionali Questo sicuramente Grazie Appunto A nuovi progetti E anche alle nuove Modalità di comunicazione Facendo leva Su quelli che sono La storia I valori La forza La forza del marchio Di Juventus Pensiamo Si possano Raggiungere Obiettivi Molto interessanti A proposito Di obiettivi Sicuramente Come ho detto In una prima occasione Quando ho incontrato Un paio di mesi fa Appunto La squadra Obiettivi Ambizioni Sportive Non cambiano Così come Non cambiano Quelle aziendali Anche questa è parte Della storia di Juventus Che è sempre riuscita A coniugare Successi sul campo Con Equilibrio finanziario E grandi Progettualità Commerciale E questo è quello Che ci proponiamo Di fare Da qui in poi Anche per il futuro Si gioca Raffaele Cremonese Bologna Adesso Giusto? 0-0 18esimo minuto 0-0 E questa sera Inter Empoli Raffaele Gioca Lukaku? Boh Sarebbe ora Che cominciasse a giocare Eh altrimenti Poi diventa Diventa un problema Va bene Raffaele Allora Noi ci vediamo Settimana prossima Analizzare Sperando di non analizzare Più scandali sportivi No Mi auguro di no Perché a noi interessa Quello che avviene sul campo E quindi Speriamo di commentare Solo quello Con il Napoli Che possiamo dirlo Ha già vinto lo scudetto C'è un pezzo Di scudetto Grande così In tasca Un grande Napoli E un grande Spalletti Grandissimo A Napoli A Napoli Partono gli scongiuri E facessero tutti Gli scongiuri Che vogliono Come Raffaele Ma ha fatto Miracolo San Gennaro Ecco va bene Anche questo No però Un pezzo di scudetto così Preso e messo in saccoccia Dai Sicuramente Questo sicuramente sì Mezzo scudetto sicuramente Mezzo scudetto c'è Raffaele grazie Grazie mille Raffaele A l'un di prossimo Grazie a voi ragazzi Ciao Raffaele Grazie mille Ciao Raffaele Ciao ciao Allora Tra poco vedremo Anche un omaggio Che è stato fatto A Cinecittà Molto interessante Ad una grande artista Del cinema italiano Nel frattempo Alessio possiamo vedere Anche la classifica Di Serie A O il turno Comunque così Per Dovizia Scudiamo E non se ne parla più Ovviamente se ne parlerà Cose di calcio Con Flavio Maria Tassotti Vediamo Napoli In testa a questa classifica Con 50 punti Seguito dal Milan Milan che ha una gara in meno Giocherà domani sera Contro la Lazio Inter e Roma A 37 Appaiate Quinta l'Atalanta A 35 Lazio poi a 34 Che ha una gara in meno Ovviamente questa sera Ci sarà la gara Tra Inter ed Empoli Tra l'altro Vedete la penalizzazione Di meno 15 Ha segnato nella classifica Alessio per favore Il turno adesso Se possiamo vederlo Grazie mille Bologna Cremonesi Sta giocando Ventesimo minuto 0 a 0 Questa sera Inter Empoli Domani chiuderà Lazio e Milan Alle 20 e 45 Allo Stadio Olimpico Allora Il grande omaggio Che è stato fatto A Cinecittà Da Dal punto Da Cinecittà E dal MoMA La prima grande artista Che è Claudia Cardinale Guardate Sono felice Di essere a Roma Città Che amo tanto Tanto Per l'omaggio Che mi fanno Cinecittà E il MoMA Grazie Vi voglio Tanto Tanto Bene Claudia Scutieri Come è nata L'idea Di questo Omaggio A tua madre A Claudia Cardinale Nato da Cinecittà Nato da Cinecittà Dall'opera di restauro Dalla volontà Di fare un grande omaggio Anche presentato al MoMA Una retrospettiva Importante di mamma Dunque nasce da questa loro volontà Di Cinecittà Con il libro Nasce la voglia Di accompagnare Questo omaggio Con una pubblicazione Che non fosse semplicemente Un elenco dei film restaurati Ma fosse l'opportunità Di un lavoro Un po' diverso Sono molto riconoscente A Cinecittà E Letta Di avermi affidato Questa pubblicazione Da curare Ecco Secondo il mio avviso Dalle dive Di quel periodo Del cinema italiano Forse Claudia Cardinale È stata lei Che ha fatto Le scelde Più radicali E migliori Che cosa ne pensi A proposito Della filmografia Di tua madre E che cosa ne pensa Lei oggi La filmografia di mamma È stata Intanto lunga Adesso abbiamo presentato Un Cardinale Donna Un cortometraggio Che abbiamo girato Pochi mesi fa Dunque intanto C'è questa grande particolarità Di aver sempre voluto continuare Ad essere Ad essere partecipe Del cinema Aiutando anche Giovani registi E progetti Diversi La carriera di mamma C'ha la prima onda Diciamo importante È quella di Cristaldi Che fece tantissime scelte Lui anche Di grande intelligenza Mettendola in un A contatto Con un cinema italiano Di quegli anni Che era di uno grandissimo Spessore Poi ci fu la magia Degli incontri Perché mamma Ebbe con molti Dei suoi registi Dei rapporti Veramente molto intensi Molto forti Molto gradevoli Dunque Quello È il miracolo Dell'incontro Con il rapporto Che ha avuto Con Visconti Anche con Bolognini Con Zurlini Con Sergio Leone Con tanti Quasi tutti i suoi registi Anche con Mencini Ci fu sempre Un rapporto Di grande stima Reciproca Mamma è sempre stata Una grande professionista Poi dopo c'è stato Un momento Con l'incontro di mio padre C'è stato un momento Un pochettino Più di caos In cui mamma Ha lavorato Anche un po' di meno Mamma è sempre stata Un'avventuriera Dunque penso Che la sua carriera Questo lo dimostra Cioè che lei Si è sempre divertita A lanciarsi In situazioni nuove E dunque Alla fine Alla fine dei conti Fa sì che È una carriera Molto versatile In cui si è divertita A fare sia le commedie Bello, onesto Immigrato in Australia Cioè si è sempre divertita A cambiare E per fortuna Ha avuto la possibilità Di farlo Perché molti attori Invece poi a volte Rimangono un po' Circoscritti In ruoli Oppure in Mamma invece Ha avuto la grandissima Fortuna Di avere una carriera Multipla A casa Ha trovato tutti i bene Certo E la sua fidanzata Io non ce l'ho la fidanzata Non ho avuto il tempo Di pensare a queste cose L'anno scorso Di questi giorni Era già scappato di casa Perché è dei fascisti Ma ora un bel po' Di tempo Che è tornato Sì ma cosa crede Il giorno lavoro E la sera vado al partito Allora E siamo al numero due Dopo Dario Argento Arriva un'altra Questa volta Icona proprio Del cinema italiano Come Claudia Cardinale Che l'ha mandata Fino al MoMA di New York Abbiamo scelto Intanto Noi abbiamo anche Così un occhio Sulle pellicole storiche Quindi un po' Sui restauri Eccetera Quindi tre Cerchiamo anche Con queste retrospettive Di recuperare Anche i film Che rischiano Di andare perduti Di essere meno conosciuti Di entrare in sindrome acetica E quindi di non essere Mai più visibili Quindi abbiamo La ragazza di Bube Che è comunque Del 63 Di Comencini Che è anche un po' Un film spartiacque Tra due periodi Del cinema italiano E il film di Squitieri Per esempio È un film Che era quasi dimenticato A cui Lei teneva molto Che è solamente Gli anni 90 Ma non c'erano copie In circolazione E poi c'è il film Di Ferreri Che è stato scelto Anche l'udienza Non solo per il valore Originale del film Ma anche perché Ferreri Sarà il protagonista Di un'altra Rassegna Sempre a New York E questo era L'omaggio meraviglioso Fatta la grandissima Claudia Cardinale A cui dedicherei un applauso Un applauso Facciamo veramente Un applauso Allora Adesso Ecco Applausi vengono anche Dalla nostra regia Allora In apertura Abbiamo parlato Del caro Del caro prezzo Del caro vita Io chiuderei Siamo quasi Nella fine di questa trasmissione Tra poco arriverà Paola Aspri Chiuderei Per farvi capire Rendere conto Dell'idea Che ci sono alcune persone Che hanno deciso Di vivere al freddo Quindi dentro casa Non accendendo i termosifoni Assolutamente no Di vivere al freddo Per combattere Perché è l'unica soluzione Per risparmiare Per combattere Appunto questo caro bollette Per arrivare al fine mese Un uomo umbro Ha deciso di vivere così Guardate Poi la pubblicità E poi arrivare a Paola Aspri Ha messo in atto Una iniziativa Contro il caro bollette Una iniziativa domestica In che cosa consiste? Consiste nel Rifiutarmi Di accendere Il riscaldamento A gas E la stufa a pelle Trovo che Questo Questo aumento dei prezzi Sia Una violenza inaudita Un sopruso E quindi Per protesta Sto cercando Di Come contro Contropartita Di non consumare Più i loro prodotti E com'è quindi La vita in casa? Chiaramente Se uno sta fermo È immobile E lì Uno può Soffrire Il freddo Però Se uno sta fermo Immobile È anche facile coprirsi Io mi sono comprato Una mantella Mi sono comprato Un plate Per metterlo Sulle gambe Che quando sto fermo A riposo Sul divano Mi copro bene E quindi non sento freddo C'ho la felpa Mi metto così Mi si crea Questa Aurea calda Che praticamente Non mi fa soffrire Il freddo E devo dire che Insomma Si può Si può Temperare Il corpo Con La temperatura ambiente Anche perché 10-11 gradi Non è una temperatura Che È invivibile Insomma Si può fare Io l'ho provato Si può fare Per cucinare Per la doccia Come si organizza? Allora La doccia Non la fa più No Non è vero La doccia Praticamente E cucinare Il consumo È minimo Ovvio Un minimo Lo devo fare Perché Di consumo Però è chiaro Che la protesta Arriva Perché Un conto È riscaldare Casa 24 ore Un conto Insomma È riscaldare Una pentola Per far bollire L'acqua E i suoi familiari Come hanno preso Questa iniziativa? Ecco I miei familiari Siccome Vi ho detto Che è una lotta È una battaglia mia Fortunatamente Vivo da solo In questo periodo Quando vengono A trovarmi I contatori Purtroppo Devono girare Ma Nonostante questo Insomma Il risparmio È enorme Già lo ha visto Nelle prime bollette? Già l'ho visto Nelle prime bollette E Lo consoliderò Nelle prossime bollette Perché sono Seriamente Determinato A non A non A non cedere A non mollare Su questo punto È stata anche Una sfida Per misurare Me stesso Per vedere Fino a che punto Una persona Può vivere Senza Eh Eh Senza Questi Queste Queste comodità Queste con